Le elezioni non ci hanno fatto ricordare in maniera perfetta e in maniera precisa quello che è accaduto a Terni nei mesi scorsi. Quello che è stata la fine della giunta di Girolamo, quello che è stato il mandare a casa in anticipo la giunta di Girolamo con tutto quello che ne consegue. È stato approvato il dissesto finanziario, finalmente si dice quanti sono i milioni che mancano all'appello, il commissario prefettizio dovrà mettere mano a questa spinosa vicenda, però perlomeno adesso sappiamo di che cosa si tratta. La storia di Terni e la storia di quello che è accaduto con la giunta di Girolamo lascia pensare. È vero che il PD ha detto che in un mondo di fake news bisogna rappresentare quella che è la verità, raccontare quella che è la verità, però io mi sono sempre domandato perché con quello che era successo nel Comune di Quarto, guarda caso governato dal Movimento 5 Stelle, è quello che è successo per quanto riguarda il Comune di Terni che era retto da una giunta del PD. A Quarto, che fa poco più di 40 mila abitanti, per la storia di SMS, di infiltrazioni mafiose, quello che poteva essere e che non poteva essere, le telecamere hanno stazionato per settimane e settimane, non c'era una trasmissione della RAI, della Filinvest, di Cairo, di Sky, che non si collegasse per sapere le ultime notizie da Quarto, per sapere se fosse stato sciolto o meno il Comune. A Terni, con gli arresti che ci sono stati, con tutte le polemiche che ci sono state, non si è vista nemmeno una telecamerina nazionale che sia stata lì a raccontare ciò che accadeva con la giunta di Girolamo, a far capire all'Italia come una città, la seconda città dell'Umbria, come una città industriale come Terni, come una città che è capoluogo di provincia, anche se le province non ci sono più, quello che stava succedendo. In una regione importante come l'Umbria, l'Umbria rossa, eccetera, nessuno si preoccupava e nessuno si è preoccupato di capire quello che stava accadendo in quella città. telecamere che non dovevano raccontare, giornalisti che non dovevano raccontare, lo hanno fatto, lo hanno fatto benissimo i cronisti locali, coloro che se ne intendono di politica, coloro magari che fanno informazione anche attraverso un semplice blog, una semplice testata online, però hanno raccontato quello che stava accadendo. E probabilmente quello che è accaduto nelle elezioni politiche è la cartina di tornasole di come lo hanno raccontato. Adesso Terni si prepara per le elezioni. Sarà uno dei comuni chiamati a rinnovare il proprio Consiglio Comunale in anticipo, così come accadrà per Umbertide dove la Giunta si è dimessa per mancata fiducia al Sindaco. Con quel terremoto che c'è stato il 4 marzo bisognerà capire come saranno adesso gli schieramenti, se il PD troverà la forza necessaria per reagire, se si cercherà di andare con liste civiche per dare una parvenza di rinnovamento. Sta di fatto che da qui a breve torneremo a parlare di politica, torneremo a parlare di programmi, torneremo a parlare di quello che serve per i comuni. Intanto però c'è stato il silenzio di quello che è accaduto, il silenzio di quello che è stato il problema più grosso di questa Regione, il dissesto finanziario di una città importante, industriale come Terni. E non lo ha raccontato a livello nazionale semplicemente nessuno. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata. Grazie a tutti.